Nicoletta Verì, eletta con la Lega in Abruzzo, è il consigliere regionale cui da statuto spetta il compito di convocare e presiedere la prima seduta dell'Assemblea Legislativa della undicesima legislatura. Abbiamo sentito le sue impressioni e raccolto il suo appello ai nuovi consiglieri regionali in vista dell'avvio dei lavori d'aula. È la prima volta che nella consigliatura c'è l'apertura di un consigliere donna. Io ho il compito di avviare le procedure per la nomina del nuovo e futuro presidente dell'undicesima consigliatura. È un compito importante ma soprattutto rivolgo un appello a tutti i consiglieri presenti nell'aula del consiglio perché siano molto attenti alle esigenze di tutta la nostra regione Abruzzo. Se dovesse indicare ai cittadini abruzzesi quelle che saranno le linee guida di indirizzo del suo mandato che attualmente da consigliere potrebbe anche rivelarsi poi in giunta, quale sono? Io vengo da un'esperienza del mondo sanitario, quindi un mondo molto complesso nella nostra regione. Sono state le istanze che ho accolto di più durante la campagna elettorale, questo disagio che ogni cittadino trova ogni volta che si rivolge a una struttura per avere un'assistenza sanitaria. Quindi dobbiamo dare risposte concrete evitando innanzitutto le liste di attesa, dando una sanità ben strutturata sul territorio, quindi rivedendo tutto ciò che è una normativa, tutto ciò che è una possibilità di apertura dei presidi ospedalieri dove un cittadino possa anche avere un'assistenza immediata. Un commento solo delle donne in questa legislatura, è vero la prima volta che una presidente del consiglio facente funzioni apre un consiglio ma ci sono tante donne in consiglio regionale questa volta? Sì, vedo che c'è un numero esteso, forse avrei preferito ancora di più come donna. Devo dire che ogni gruppo ha eletto una donna prevalentemente, nel nostro gruppo del centro-destra sono due della Lega e un'altra componente della maggioranza. Ho visto che ne sono altre due degli altri gruppi, quindi avremo anche un consiglio rosa. Devo dire che questo cambiamento dello statuto ha portato a questo incremento, anche se io nelle mie aspettative, ripeto, avrei voluto di più.